Un serpente sulle scale di casa a Venafro, la paura e l'appello della signora Elena che chiede la pulizia dei rovi. Dopo la decisione di rinunciare al secondo sottosegretario, il presidente Roberti assegna le deleghe ai consiglieri regionali. Chiusura a Trignina per lavori, stamane in riunione in provincia con i rappresentanti ANAS si va verso il senso unico alternato. Turismo delle sorgenti in Molise, si punta su nuovi percorsi turistici, 15 le cascate presenti sul territorio regionale. Nel centro in provincia di Sernia è ambientato l'ultimo cortometraggio di Cristian Antonilli, gli attori, gente del posto. Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di TV Molise. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Termoli per soccorrere una donna caduta in casa in piena notte. Una volta giunti sul posto, i caschi rossi sono riusciti ad entrare nell'appartamento e a soccorrere la donna che successivamente è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santimotio per le cure del caso. E ora torniamo sulla vicenda della nomina del sottosegretario perché non si farà più sfuma questa ipotesi. Il Presidente Roberti, il Governatore, ha assegnato le deleghe ai consiglieri regionali proprio per dare un maggiore spazio a questi consiglieri delegati e ci dice com'è andata in questo servizio Francesco Adamo. La decisione maturata nella maggioranza di centrodestra di rinunciare al secondo sottosegretario ha avuto i suoi effetti con l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri regionali da parte del Presidente Roberti. Quindi niente modifiche dello statuto e tutti spediti con un metodo già collaudato in precedenti amministrazioni. Ancora non ufficializzate le deleghe ai diretti interessati con lettera, ma a parte modifiche dell'ultima ora, le deleghe sono queste. Stefania Passarelli, politiche sociali e caccia. Armandino Digidio, sport e digitalizzazione. Fabio Cofelice, turismo e cultura. Massimo Sabusco, energie e risorse idriche. Roberto Di Pardo, trasporti e ambiente. Roberto Di Baggio, formazione e personale. Considerando il fatto che dietro ogni provvedimento è possibile leggere anche altri significati, risulta evidente che l'assessore a cui sono state sottratte il maggior numero di deleghe è Salvatore Micone, che perde sport, turismo, cultura e digitalizzazione. Quindi, potendosi concentrare ora solo sull'agricoltura. E poi il segnale costante della posizione volutamente defilata e polemica di Nicola Cavaliere, che sembra non abbia voluto incarichi. Individuandosi così le pedine scricchiolanti della maggioranza di centro-destra. Michela Fanelli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, in una nota stampa ha espresso forte contrarietà alla possibile cessione di acqua dalla regione Molise alla Puglia senza garantire prima i fabbisogni idrici dei molisani e gli accordi sui ristori economici. Fanelli ha inoltre sottolineato che il Consiglio regionale nel 2021 si era già espresso contro ulteriori erogazioni verso altre regioni senza la certezza di soddisfare prima le necessità locali. Il Governo regionale, conclude Fanelli, mantenga prima gli impegni assunti. E saprete sicuramente della chiusura di un tratto della Trignina per dei lavori che dovranno essere fatti. Questa mattina c'è stato un incontro al Palazzo della provincia di Isernia con i rappresentanti dell'ANAS proprio per cercare di capire come gestire questa chiusura in concomitanza dei lavori e garantire però lo stesso la circolazione. E ce ne parla in questo servizio Francesco Adamo. Chiusura Trignina, come preannunciato, si va verso il senso unico alternato e quanto emerso stamane nel confronto tra ANAS, provincia di Isernia, forze dell'ordine e sindaci dei comuni interessati dei lavori che da qui a breve partiranno sulla statale 6 e 50 nel tratto tra Pesca e Sessano del Molise. Nella sala giunta del Palazzo di Via Berta si è tenuta una riunione per trovare una soluzione che possa andare bene a tutti e soprattutto ridurre al minimo i disagi causati dagli interventi che interessano la Galleria Serre. Alla fine di un acceso dibattito ANAS avrebbe accettato la proposta dei sindaci con molta probabilità sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo un provvedimento che riguarderà non solo le auto ma anche i mezzi pesanti con la possibilità di modificare l'ordinanza in vista dei mesi invernali quando a causa della neve e del ghiaccio i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate potrebbero avere delle problematiche. In quel caso per loro sarà proposto un percorso alternativo. Nel corso dell'incontro gli amministratori locali hanno continuato a ribadire la necessità di istituire il senso unico alternato lungo la statale un'ipotesi che non piaceva ad ANAS la quale nella precedente ordinanza attualmente sospesa aveva individuato come alternativa la deviazione del traffico sulla statale 17 bypassando la Galleria Serre e passando per il centro abitato di Carpinone proprio a Carpinone la proposta avanzata da ANAS aveva generato una forte opposizione. Noi abbiamo il corso aquilone che è come un budello quindi non credo che sia opportuno deviare il traffico all'interno del nostro paese. Intanto la disponibilità di ANAS a sedersi attorno a un tavolo per trattare è stata vista come un segnale positivo a sostenerlo il consigliere provinciale delegato Candido Paglione e lo stesso presidente Saia. Naturalmente contiamo anche molto sul buonsenso e soprattutto sul fatto che i lavori vengono svolti celeramente. Si deve trovare la soluzione migliore che non scontenti tutti gli utenti che usufruiscono dell'arteria di aria anche in considerazione dell'inverno che si sta avvicinando e soprattutto quindi che consenta al traffico di essere regolare. Il servizio che avete appena visto era di Antonio Leone, Francesco Adamo invece nel prossimo servizio ci aggiorna sulle indagini legate alla vicenda della donna trovata morta a Campobasso. Sono state rinvenute delle ossioni sul corpo però è stata allontanata l'ipotesi della rapina. intanto la procura affiderà l'incarico domani ad un medico legale per eseguire l'autopsia sul corpo della 76enne. Ma sentiamo. In nuovo ad infittirsi la vicenda relativa al rinvenimento nella mattina di lunedì del cadavere di una 76enne di Campobasso nella sua abitazione a terzo piano in Contrada Macchie. La donna è stata ritrovata in casa dalla nipote sul letto. Probabilmente il decesso è avvenuto qualche giorno prima del ritrovamento e si ipotizza che alla base ci siano cause naturali. Ma qualcosa pare non tornare ed è per questo che il sostituto procuratore Santo Suosso ha disposto l'autopsia. L'appartamento, situato al terzo piano della palazzina che vedete nelle immagini, è stato aperto dalla nipote e con le chiavi, non presentava segni di scasso e dal momento del ritrovamento è stato posto sotto sequestro per tutti i rilevamenti del caso. Parebbe sia già da escludere l'ipotesi di una rapina andata male, nessun segno di effrazione. I soldi della donna sono ancora in casa, mancano i farmaci, ma allora perché i sospetti da parte delle autorità? Sulla donna paiono essere stati ritrovati segni apparentemente simili ad ustioni sul collo, braccia e gambe non riconducibili ad una caduta. In queste ore si procederà all'autopsia sul corpo della donna che fornirà dettagli fondamentali ai fini delle indagini. Il commissario ad acta per la sanità del Molise Marco Bonamico d'intesa con il subcommissario Ulisse Di Giacomo con proprio decreto ha istituito il tavolo regionale per la governance del programma operativo 2023-2025. Il tavolo regionale convocato dal commissario ad acta si riunirà con cadenza bimestrale per valutare le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi del programma operativo. Andiamo a Venafro, una signora si ritrova improvvisamente con un serpente per le scale di casa, è stata raggiunta dal nostro Domenico Marzocchella e la signora Elena, oltre a parlarci dello spavento che ha avuto, fa anche un appello e dice che sarebbe il caso di ripulire i rovi che hanno invaso il quartiere. Vediamo. Da quel muro pieno di erba, signora ho visto un serpente, una vipera sul piazzale, ascesa per le scale, ho detto che devo fare, e ha detto signora state attendo perché quelle vengono dentro. La signora Elena abita nella zona del castello, nella parte alta di Venafro, quella appoggiata alla montagna, la signora Elena, da anni è su una sedia a rotelle, ad aiutarla una badante, quella che ha visto l'indesiderata e forse pericolosa intrusione. Anche altri residenti della zona, ci dice, hanno fatto simili avvistamenti rispetto al passato, sarebbero più frequenti a causa della vegetazione incolta che cresce lungo il muro di contenimento in cemento nella stradina tra le case e il castello. Oltre quel muro, verso la montagna, una montagna di rovi. La situazione non migliora nei paraggi. La scalinata di collegamento con la piazzetta panoramica intitolata Totò è in uno stato che rasenta l'incuria con insoliti ostacoli, nei quali siamo puntualmente inciampati. Puliscono solo la piazzetta, ma qui non arrivano, lamenta un'altra donna, a telecamere spente. La signora Elena, invece, con una dolcezza che sembra quella di una bambina e che spesso si vede sui volti delle persone anziane, continua a parlare, ma non alza la voce, né punta il dito. Solo chiede di essere aiutata. Io ho un problema che non mi alzo più, non mi alzo più, non posso camminare. E qui c'è il timore che questi animali vi possano entrare in casa, come peraltro è già successo? Non posso avere nemmeno la porta aperta, nemmeno la finestra. E almeno volevo, se potete avvisare il sindaco, non so chi, di pulire un po' almeno vicino a quell'erbaccia che sta là, in modo che se viene un serpente, un animale, lo vedo. Nuovi percorsi turistici per valorizzare le sorgenti presenti in Molise è una iniziativa dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo con Molise Acque e il Presidente frattanto è tornato anche sulla questione dell'approvvigionamento di acqua molisana da parte delle altre regioni dicendo prima i molisani. Ma ci parla di tutto questo Francesco Adamo. Il turismo delle sorgenti. Questa mattina la presentazione del progetto in conferenza stampa nella sede di Molise Acque con l'azienda autonoma di turismo del Molise in vista della congiunta partecipazione al Salone del Camper di Parma. L'iniziativa dedicata alle sorgenti nel turismo rappresenta una novità nel panorama regionale ed è al centro di un progetto condiviso dall'Ast con Molise Acque. Noi vorremmo realizzare questo progetto che consiste in questo. Noi vogliamo che le sorgenti del Matese che hanno delle connotazioni naturalistiche, ingegneristiche e quindi sono di sicuro appeal per qualunque turista facciano parte del patrimonio turistico del Molise insieme ai nostri borghi, al nostro mare, alle nostre montagne, ai nostri beni archeologici e storici. Quindi noi che cosa vogliamo fare? Abbiamo già un progetto di massima per la realizzazione di tutte quelle opere di supporto che servono per i turisti. Quindi mostre fotografiche, sala convegni, parcheggio, servizi, visite guidate. Sulla crisi idrica invece le regioni limitrofe continuano a chiedere acqua alla regione Molise. Le regioni e in particolare la Puglia chiedono questo servizio da parte nostra. Noi ci rimetteremo naturalmente alla decisione della regione. Se la regione come penso che farà sent altro dovesse chiederci un parere, noi diremo che quello che ci ha insegnato l'esperienza della cessione dell'acqua alla Campania è che devono verificarsi sostanzialmente due condizioni fondamentali. Primo che ce ne sia abbastanza soprattutto per i molisani, quindi prima i molisani. Nel caso in cui questo surplus dovesse essere verificato che ci sia, non accettare ipotetiche e qualche volta mai realizzate in passato opere compensative, ma farsela pagare al prezzo giusto. Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, annuncia che l'Auditorium Unità d'Italia cambierà nome, si chiamerà Auditorium 10 settembre 1943. Una scelta che arriva dall'ascolto di un territorio profondamente segnato dagli eventi di quella giornata, ha affermato il primo cittadino del capologo Pentro. Il nostro Auditorium diventa dunque Auditorium 10 settembre 1943, in ricordo delle vittime del bombardamento. Daremo luogo alla cerimonia di intitolazione in occasione dell'ottantunesimo anniversario di quel tragico evento, conclude Castrataro, che ricorre tra pochi giorni. Riannettere la provincia di Isernia all'Abruzzo, questa petizione per la richiesta di un referendum è approdata anche a Venafro ed è andato a vedere per noi Domenico Marzocchella. La raccolta firme per ricucire la provincia di Isernia all'Abruzzo è arrivata anche a Venafro. Partita lo scorso marzo, nelle intenzioni del Comitato Civico Isernino che l'ha ispirata, l'iniziativa proderà in tutti i 52 comuni della provincia. Servono 5.000 adesioni per apporre la propria firma al banchetto, l'unico requisito oltre al documento d'identità naturalmente la residenza nella provincia Pentra. Tassazione elevata a fronte di servizi, specie nella sanità, scadenti. Drammatica conseguenza lo spopolamento che pare inarrestabile. Il tutto mentre l'Abruzzo sfiora i livelli di vita delle regioni dell'Italia centrale. Sono le considerazioni dei promotori della petizione che, a quanto pare, stanno facendo proseliti. Perché ha deciso di firmare? Ho firmato perché a mio parere in provincia di Isernia sta funzionando quasi più niente, ma non solo in provincia di Isernia ma in tutto il Molise. Le strade sono disastrate, la sanità non funziona, non ci sta rimanendo più niente, neanche a Isernia, Campobasso e Termoli fra poco. Perché l'Abruzzo sarebbe da preferirsi? Si è partiti con Abruzzo e Molise che erano alla pari. Nel tempo si è visto che invece l'Abruzzo è andato avanti e il Molise sta andando sempre più dietro. È meglio perché l'Abruzzo ha molti ospedali, è meglio, noi siamo isolati, il Molise non ha niente, l'ospedale che abbiamo non funziona. E dove dobbiamo andare? Qua siamo scordati, il Molise è scordato da tutti. E l'Andi Rivieni al banchetto nelle tre ore dell'iniziativa fa pensare che l'operazione ricucitura della provincia all'Abruzzo si intrecci con la volontà di un numero crescente di persone, anche a Venafro. E' state da record per il Parco archeologico di Sepino che nel solo mese di agosto ha contato oltre 5.700 presenze e ci parla di questo bel record Gerardo De Luca. E' state da record per il Parco archeologico di Sepino che ha registrato ben 5.717 ingressi solo nel mese di agosto. I turisti infatti sono più che triplicati se si considera che nello stesso periodo del 2023 sono stati 1.642 i visitatori del sito archeologico molisano. Al di là della bellezza del sito, a dare una spinta ulteriore al Parco, anche le mostre temporanee e i tantissimi eventi culturali che sono stati programmati nel corso dell'estate. Enrico Rinaldi, direttore del Parco archeologico di Sepino e della direzione regionale Musei del Molise, si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Da gennaio 2024, data dell'introduzione del biglietto d'ingresso, ha affermato, abbiamo superato quota 20.000 visitatori con oltre 100.000 euro di incassi. Si tratta di dati ufficiali che possiamo certificare tramite il monitoraggio e grazie all'introduzione del ticket d'ingresso. Un aumento significativo dei visitatori rispetto al 2023, soprattutto se si considera che gli introiti sono all'incirca 10 volte superiori ai precedenti. I ricavi, ha aggiunto il direttore Rinaldi, verranno investiti per la tutela, la manutenzione e la salvaguardia dell'area archeologica, nelle attività di scavo e di comunicazione e promozione del sito. Proprio in quest'ottica va rimarcato che da maggio sono attive le pagine social ufficiali del parco, una strategia comunicativa mirata a facilitare la conoscenza e la fruizione del sito. Ambientato nel centro di Sant'Agapito, in provincia di Sernia, l'ultimo cortometraggio di Cristian Antonilli dedicato alla nascita della televisione e ce ne parla in questo servizio Antonio Leone. Un omaggio alla sua terra e ai primi passi della televisione, quello di Cristian Antonilli, regista eserdino, che porta sullo schermo il cortometraggio La scatola magica ambientato nella frazione di Temennotte a Sant'Agapito. Realizzato con attori non professionisti del posto, il corto narra una storia vera tratta da un racconto di Daniele Antonilli, che è anche uno degli interpreti e che vede protagonista la piccola comunità, oggi in provincia di Sernia, tra gli anni 60 e gli anni 80 del secolo scorso, quando la televisione era ancora un elemento di integrazione e un punto di connessione con il resto del mondo. Alla fine della giornata lavorativa più famiglie si riunivano in una sola casa davanti al piccolo schermo per guardare in varietà il notiziario o le partite della nazionale di calcio, un mezzo alla televisione che riduceva le distanze tra le periferie rurali, spesso ancora arretrate, e grandi centri urbani erano quelli gli anni della ricostruzione e poi del boom economico, la televisione faceva sognare, faceva appassionare, sullo sfondo piccoli grandi storie personali che connettono l'esistenza dei protagonisti alle prese con gli strascichi del dopoguerra e la ricerca di quell'emancipazione sociale ed economica che sembrava così facile da raggiungere in quella piccola scatola magica, la realtà invece era ben diversa con padri di famiglia che per garantire un futuro ai figli erano costretti a fare le valigie per emigrare, un corto quello del regista molisano, realizzato senza budget ma ricco di autenticità, Cristiano Antonilli è nato a Esernia ma vive e lavora latina, ha già ottenuto i favori della critica con storia di una famiglia giallo-verde, docufilm dedicato alle fiamme gialle e con la sorpresa cortometraggio sulle auto d'epoca grazie al quale nel 2020 ha ottenuto la nomination all'International Motor Film Awards di Londra. E con queste belle immagini si conclude anche il Tg di oggi, io vi ringrazio della cortesia e attenzione, ora potrete seguire le notizie abruzzesi curate dalla QTV, ancora un ringraziamento da parte mia e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale. Arrivederci.